Dato dal fiume che scorre dalle montagne, si è che non trova un ostacolo. Qual è l'ostacolo? L'ostacolo è rappresentato in questo caso dal livello del mare, che ha un'altra sua dinamica, indotta dalle maree, dal vento e dalle correnti, per cui le due dinamiche, quella del fiume e quella del mare, si annullano reciprocamente e ciò che era in carico rispetto alle acque continentali si accumula dove il fiume trova un ostacolo, il mare. E lì il mare accumula ciò che ha in carico, le conchiglie, lì dove trova un ostacolo, che è rappresentato dal fiume o dal continente. Quindi il delta, questa foce fluviale...